ok ragazzi è stato un allenamento massacrante abbiamo cercato di di dare a quel qualcosa in più ad ad ogni esercizio ogni ad ogni set ed è così che si ottengono i miglioramenti quando è quando ne hai più che fai quella quella ripetizione in più che ti porta a quel miglioramento tutto quello che hai fatto prima è preparazione di questo vai l'allenamento con luca è stato impegnativo come tutti mi viene preannunciato e speriamo di di avervi dato degli spunti interessanti insomma su come eseguire gli esercizi e come spingersi un attimino oltre oltre limite che è la cosa più importante grazie a tutti dai Grazie.